bentornati nella mia cucina oggi prepareremo insieme un secondo molto veloce tocchetti di avvolti in patatine croccanti per fare questo piatto avremo bisogno di 400 grammi di petto di pollo 150 grammi di patatine 2 uova sale e pepe molte volte questo piatto viene fatto quando facciamo una testa ci rimangono le patatine che facciamo le utilizziamo iniziamo il procedimento come prima cosa andremo a preparare l'uva mettiamo il sale aggiungiamo del pepe battiamo una ricetta semplicissima da fare questa si fanno al forno non c'è bisogno di nessuna tuttura adesso prendiamo il pollo tocchettini fatti così andiamo a mettere nelle patatine in questo modo le patatine le ho già leggermente schiacciate prima adesso le appoggiamo su un vassoio ecco fatto così facciamo così tutto il procedimento giriamo un po queste vengono buonissime piacciono molto ai bambini continuiamo così fino a che non abbiamo finito tutto il prodotto una volta aver finito la preparazione dei nostri tocchetti e abbiamo messo dentro delle teglie con della carta forno precedentemente abbiamo già acceso il forno a 180 gradi e adesso li andremo a infornare dopo dieci minuti i nostri tocchetti di pollo saranno così croccanti fuori e morbidi dentro adesso facciamo un'aggiunta di un po di sale aggiungiamo un po di pepe e per chi vi gradisce ci sono anche i limoni ma grazie a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta ciao ciao